Nooo, ma vi chiede E' scherzato il russo, ma... 8, 9... Allora, qui sono seppi e polpi, via! Seppi e polpi... Scorfani! Scorfani! Questa va in diretta TV In diretta TV YouTube che cazzo? Sazzo! Che cazzo è YouTube? Sì, come seppi e polpi, via! Sì, come seppi e polpi, via! Sì, come seppi e polpi Faccio il totale all'isolano Però, un po' con il totale all'isolano Cos'è questo? Razza! La razza! La razza di solda! No, la secci solda! Questi sono razzi di solda! No, ci metta con il comando Sì, come seppi e polpi Guardate, guardate! Guardate pure l'isolano! No, questa cosa... Però, speriamo che sta avvenendo! Sì, se continuano a dare i numeri, sì! I numeri rossi? Sì! Ma c'è il REC! Sì, è in REC! È in REC? Sì, è in REC! Siamo in REC! Siamo in REC! Siamo a Cala Fevola Trucco, 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 Trucco E Gennaro Anillo Ma qui ci sta? A bordo di chi stiamo? A bordo? A bordo? A bordo di chi stiamo qua? A bordo di chi stiamo? A bordo dello sparbiero! Lo sparbiero! Lo sparbiero! Oh, ucchucmelle! A bordo dello sparbiero! A bordo dello sparbiero! Ucchucmelle! Ucchucmelle! Questo si pisse per... Ucchucmelle! A bordo dello sparbiero! Eh, tanti a questi! Pisce di mare! Pisce di mare! Pisce di mare! ammazza dica vedi un po stop no rischiaccia il rosso